Non è il problema, quello è la liberazione. Tu non hai tutti questi mascoli. Tutti questi mascoli devoti non ce l'hai. Non è il problema, non è il problema. Non è il problema, non è il problema. Non è il problema, non è il problema. Non è il problema, non è il problema.